A 365 giorni dall'apertura del lab vaccinale a Clusone, oggi si è svolta la cerimonia di chiusura. A un anno esatto dall'apertura di questo punto vaccinale sono state somministrate 150.000 dosi di vaccino, una campagna quindi massiva, molto importante, a seguito di quella pandemia che tanto ci ha colpito nel 2020. Quindi a distanza di un anno aver ottenuto questo risultato è sicuramente motivo di soddisfazione, anche perché abbiamo visto in quest'inverno che comunque nonostante l'alto numero di contagi non si sono più chiuse le nostre attività per cui siamo andati avanti tranquillamente e soprattutto la gravità di chi è stato contagiato non era più quella del 2020, quindi con pochi ricoveri e soprattutto con pochi morti. Quindi veramente una campagna vaccinale che ha funzionato e che ha funzionato al meglio. Resta solo a questo punto che fare dei grandi ringraziamenti ovviamente all'azienda ospedaliera SST Bergamo Est e ATS per tutto il lavoro professionale che hanno svolto in maniera egregia ma soprattutto con il cuore proprio grande per tutti i nostri volontari che in questo anno si sono alternati qui. Stiamo parlando di più di 700 persone facenti parte di associazioni o anche liberi cittadini che hanno regalato il loro tempo per raggiungere questo obiettivo. Quindi chiudo dicendo veramente grazie e grazie di cuore a tutti. Tra qualche giorno dunque il centro sportivo tornerà così a ospitare i giovani ragazzi dell'altopiano. Ovviamente questo è un centro sportivo purtroppo da quando è stato messo a nuovo ha ospitato pochissime iniziative di questo carattere. Adesso invece ci siamo quindi vogliamo che il nostro centro torni a vivere per quello che è stato creato. Sicuramente le nostre associazioni sapranno farne l'uso migliore e quindi anche il nostro territorio potrà usufruirne in attesa poi quindi dei famosi ritiri estivi che quindi potranno così rendere omaggio ulteriore a questo importante centro.